Musica Mister, una squadra imbottita di tantissimi giovani ha fatto quello che ha potuto contro il Gladiator questi ragazzi fanno un applauso però qualche occasione sottoporta è stata spiegata Sì, sono sinceramente mortificato perché oggettivamente siamo in questa situazione difficile mi ha dato atto ai ragazzi che comunque hanno dato tutto oggi siamo stati poco attenti su quelle due situazioni sul pannello inattiva ci mancava qualche centimetro e poi abbiamo sbagliato qualche situazione sottoporta è peccato perché magari potevamo pensare anche di fare il risultato e quindi sono veramente mortificato per questo, mi dispiace tantissimo e quindi spero veramente che adesso ci siano delle novità sul fronte societario perché le ultime due settimane sono state veramente durissime Mancino più dietro, Gaudino un po' più avanti è una soluzione a cui aveva pensato? Sì, abbiamo lavorato in questa settimana perché Mancino con queste sue percussioni da dietro sicuramente un giocatore importante, l'aveva già fatto anche domenica scorsa partendo sempre da quella posizione buttandosi dentro anche oggi ha fatto una buona partita Gaudino essendo svelto, rapido magari poteva trovarsi la posizione giusta anche lui ha fatto una buona partita è chiaro che era forse la prima da titolare quindi comunque sono contento più che l'undici magari ci mancava qualche soluzione più importante poi magari nel secondo tempo che magari ci poteva permettere di cambiare un po' il volto alla partita e quindi peccato Infatti ha fatto esordire tantissimi giovani Boccia, Senatore, tanti 2005 una nocerina che ha fatto quello che ha potuto Sì, sì oggettivamente adesso, oggi la situazione è questa io mi auguro che prima possibile venga una nuova società perché mi aspetto che magari altri giocatori in assenza di una carezza e di una solidità futura magari possano chiedere di andare via e sarebbe veramente un peccato perché soprattutto tra prima squadra e questo gruppo di giovani secondo me si potevano creare le basi e si possono creare le basi per qualcosa di buono è chiaro che ci vuole assolutamente la società Un po' mal risposto sarà una settimana complicata in casa Rossonera se non ci saranno novità Sì, perché già sono due settimane che siamo in questa situazione oltretutto purtroppo capita nella finestra di mercato e quindi magari come ho detto prima tanti giocatori se non hanno certezze di normalità è chiaro che magari possono pensare di andare via devo dire che i ragazzi che c'erano oggi sono tutti legatissimi alla maglia e quindi sarebbe un peccato disperdere queste forze l'auspicio è quello che entra in una società e cerchiamo anche di poter potenziare la squadra al fine comunque di finire il campionato nel miglior modo possibile Grazie mille